Un video che mostra la violenza degli scontri tra i tifosi giuliesi e terramani ha fatto il giro dei social scatenando indignazione e preoccupazione. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13 di ieri in via Cupa, a pochi metri dallo stadio Fadini Giulianova, dove si è disputato il derby di eccellenza tra Giulianova e Teramo, vinto dalla squadra di casa per 1-0. Il servizio d'ordine, composto da più di 120 esponenti di forza dell'ordine, non è riuscito a evitare il contatto tra le opposte tifoserie, che si sono affrontate con bastoni, sasse e cinture sotto gli occhi increduli dei residenti della zona. Ci sono stati questi tafferugli piuttosto violenti prima di inizio della partita, subito sedati, come avete visto l'intervento delle forze dell'ordine che ascoltavano i tifosi terramani. Adesso lavoriamo, stiamo visionando immagini, telecamere, vediamo di venire l'identificazione delle responsabili. Nel corso degli scontri, due agenti sono rimasti feriti alla testa dal lancio di oggetti. Si tratta di un poliziotto della scientifica e di un maresciallo dei carabinieri, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova e di Messi con una prognosi di dieci giorni. Fortunatamente bene, meglio, però comunque sono brutti episodi. Anche molti tifosi sono stati colpiti, ma nessuno si è fatto refertare per il timore di essere identificato. Oltre 60 tifosi coinvolti, per cui sono in arrivo, denunce e daspo. La situazione è degenerata in pochi minuti, con scene di guerriglia urbana che hanno ricordato i peggiori episodi di violenza negli stadi. Purtroppo non è la prima volta che le due tifoserie si scontrano. Già nell'incontro di andata disputato a Teramo ottobre, ci furono degli incidenti, anche se più lievi, tra i supporter delle due squadre. Il fenomeno della violenza negli stadi è sempre più preoccupante e richiede interventi urgenti e efficaci da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la legalità dello sport.